Unità 12.8 Unità 12.8 Matem plana Bebaldu Matem plana subaldis Abbiamo visto la piantina senza senza i mobili senza mobili e con i mobili Adesso andiamo sul chio andiamo più sul dettaglio e vediamo dove sono curi ira e va curi l'iteri dove tieni tanti cross d'actos Poi c'è che C'è l'ho una stoppia Dove tieni curi l'iteri Arba Cur ira Dove E Io tu che ne provienas Dove sono Tavo namo se Tavo namo se Tipo E ira skirtumas Dove tieni E dove sono Tenere Siena su Leicimo Stavate Tu capisci Tu capisci Perchè Cur laicai Augala Tieni Laicai Pai mi padri A piè In dapplo Perchè Che cosa Cosa ha detto Dove tieni La lavastoviglia La lavastoviglia Non è una cosa che il nome Dicca Che viene Viene Tu Con i nostri padri Allora Che viene Su un cibo Baldo Adesso La lavastoviglia Dove tieni Come si legge Ma Guarda Tutti Ciò Dove è Va bene Perchè Ciò Che è Come si Stavate Ma se I ragazzi Gini Sentano Dove è A casa tua Arbate solo da te E lo Stereo Lo Stereo C'era su dove Lo Stereo E Ma No C'era Dove è Variante Arbate nella Mia camera Arbate in camera Mia Lo Stereo E in camera Mia An palanghe Palanghe Non è Giove Se riuscissimo C'è Davanti Riesca Priecchie Davanzale A Priecchiene L'angolo Davanzale Io C'è un cartes Stereo Mettere E quali Passacchiti Non ce l'ho Davanzale Ragazzi Che più Patrono Vieras Il davanzale Ant palanghes Sul davanzale Va bene Andra Solana Sera Tors Dove Tieni L'apribottiglie Apri Nuo Aprire E bottiglie Nuo Bottiglia Dove Tieni L'apribottiglie Apri a camber Per me In cucina Viena Stalce Stalce Sì Cassetto Cassetto Vieras Armotis Vieras Lo tengo in camera Lo tengo in camera mia Lo tengo in camera mia Cioè io Lo tengo in camera mia Sulla scrivania Sulla scrivania Sulla scrivania 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 i cattus. Iuos leicau? Li tengo. Li tengo an palangas? Sul davanzare. Li tengo sul davanzare. E un cattus naturi ne dix non celo. Nes cene a che viena calvam? A che iuos calvam. Vibus? Iu naturu? Non celio. Non celio. Ok. Curle che i saldi in us? Dove tieni le caramelle. Dove tieni le caramelle? Virtue in delia. In cucina. Siclenia. In cucina in un siclenia. Barattolo. Le tengo in cucina in un barattolo. Le tengo in cucina in un barattolo. Sì. Sì. Io come stai in un barattolo ti ti dà che hai il le caramelle. E la moto che tu ti dà io in un barattolo. Non ce le ho. Non ce le ho. Noi permetti che lì il le ne dà in un barattolo. Non ce le ho. Non ce le ho. Non ce le ho. Non ce le ho. Benissimo. Tutto l'ho. Quella che ieri mi stossa? Dove tieni le medicine? Dove tieni le medicine? Ias le co virtui? Le medicina. Spinteli. spinta buio armadio. Spinteli bus armadietto. Le tengo in cucina in un armadietto. Si è mai giù? Sì. Le tengo in cucina a me. Spinteli. Con le che idriati? Dove tieni la bicicletta? Nelle collo io non la tengo in casa. Sì? C'è tic in casa. Ness a casa se mi posso nomor se io qui o se 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 non me nomor se e normalmente lo puto in casa. Non le tengo in casa. Io le che ho? Così? La tengo in cantina. La tengo in cantina. Questa? La tengo in cantina. In cantina. Cartes lightine. Cartes? Qualche volta? Qualche volta a volte lightine. no. Non. no. No. But light trich stelle. What? No. 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 pianerotolo 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 dove c'è il suo nome laitore stelle stelle iè pianerotolo 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 c'è il suo nome qui c'è laitore stelle iè stelle c'è il suo nome al pianerotolo pianerotolo e c'è il suo nome che c'è il suo nome perché laitore c'è il suo nome laitore normalità sul pianerotolo sul pianerotolo le scale sulle scale laitore benissimo entro dove tiene la spirapolvere glieleco lo tengo lo tengo lo tengo polovere 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 sotto il letto sotto al letto lo tengo sotto al letto sotto al letto sotto al letto qui c'è il mio il suo nome è questo tutto il suo nome il suo nome non lo so quindi vediamo dove la lavatrice dove è la lavatrice è la lavatrice è in bagno è in bagno quindi la lavatrice che la crei è le scarpe 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 in un armario Inghiettivo 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 Scarpiera Scarpiera Quali a qualcosa di inizio Come si è un po' Scarpiera Scarpiera Salottine Insalottiera Circa Salsmatico San nägomasi rhythm Succhu Scarpiera Scrubo Alz Liebe Piepirine Papiera Si Dove tieni le scarpe regionali? Io ne ho? Non ce le ho Non ce le ho Non ce le ho Dove tieni gli attrezzi da lavoro? Dove tieni gli attrezzi da lavoro? Non ce le ho Non ce le ho Non ce le ho Non ce le ho Garagè Io ho le co garagè Li tengo in garage Io ho le co virtù e poche Euclè Li tengo in cucina sotto Sotto il lavandino Li tengo in cucina sotto il lavandino Ora sul gile Li tengo in cucina sotto il lavandino Li tengo in cucina sotto il lavandino Il lavandino Faccio il lavandino Il contatore della luce Eccolo 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 Grazie Dove tieni il contatore della luce? Grazie Dove Dove è a casa tua Il contatore della luce? A casa tua Eccolo Il contatore della luce Il contatore della luce Il rapido è Eimo duro E E E Prie Vicino alla Porta Eimo Di Entrata Il contatore della luce 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 E' vicino alla porta Di L'ingresso Sì L'ingresso D'ingresso Il contatore della luce Il contatore della luce Non ce l'ho Non ce l'ho Non ce l'ho A casa Trovo la carattina E salvo Perché ero Non ce l'ho In casa Va bene E Rastù E La Cosa E Sì No, 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 no.